Una grande esercitazione di protezione civile, ma anche un'occasione per approfondire in una serie di lezioni le tematiche legislative e i problemi che la macchina dei soccorsi deve affrontare ad ogni evento critico. E questo è il senso del Campo Scuola di Protezione Civile, organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato. L'undicesima edizione, che si è svolta a Villarfocchiardo dal 15 al 19 maggio, sotto legida della Protezione Civile Nazionale, ha messo in campo un numero consistente di forze del territorio, 260 volontari, circa 300 studenti, e poi i mezzi, le attrezzature e le risorse umane di Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Città Metropolitana di Torino, Comune di Villarfocchiardo, della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Il progetto nasce per far lavorare insieme volontari di diverse specialità, quindi in sostanza cercare di collaborare in calamità diverse, in settori diversi, tra le specialità che hanno delle peculiarità diverse, ma tutti per un fine comune. Nel corso degli anni questo progetto è cresciuto e si è sviluppato e adesso abbiamo veramente, oltre a tutto il quadro istituzionale, specialità di tipo diverso che si occupano dalla logistica, al soccorso antincendio, all'intervenire su segnali alluvionati, all'intervenire in case di sisma, e quindi pian piano siamo riusciti a creare un programma strutturato e nello specifico qua approfondiremo una tematica che negli ultimi anni non abbiamo affrontato tanto come campo scuola, ma l'abbiamo affrontata sul campo, ovvero quello del rischio sismico. Siccome Villar Focchiardo, assieme a Sant'Antonino di Susa, sono i due comuni della Valle di Susa che hanno il rischio sismico più elevato del Piemonte, assieme al Pinerolese, verrà trattata una tematica specifica. L'esercitazione al Bareta 2019 ha avuto un programma molto fitto, a cominciare dalle lezioni dedicate al nuovo codice di protezione civile, che ha introdotto il tema della resilienza. Il rischio affrontato nel corso dell'esercitazione è stato il rischio sismico. Il programma ha previsto esercitazioni di allestimento tendopoli, salvataggio in acqua, spegnimento incendi boschivi, evacuazione feriti, intervento su scenari alluvionali, ricerca e salvataggio persone scomparse in ambiente rurale e montano. Per la città metropolitana di Torino, in particolare, si è trattato di un'esercitazione nell'esercitazione, ovvero la predisposizione di tutti i servizi essenziali degli uffici comunali terremotati, grazie all'unità mobile di protezione civile, una sorta di soccorso amministrativo, già sperimentato durante il terremoto in Emilia e poi in quello delle Marche, che è altrettanto indispensabile di quello portato direttamente ai cittadini con l'allestimento delle strutture di accoglienza. È fondamentale questa funzione perché se il comune non può attivarsi in questo senso, tutte le altre attività non possono funzionare. Per esempio, l'attività importante per il comune è attivare l'anagrafe, attivare il servizio per i censimenti danni, attivare i servizi per assistenza alla popolazione e questo è fatto tutto tramite l'amministrazione comunale, quindi ovviamente tutta la situazione amministrativa del comune deve funzionare perfettamente. L'unità che vedete qua dietro, che è in grado di ripristinare in tempi molto brevi, stamattina ci abbiamo messo mezz'ora, tutti i sistemi essenziali che possano garantire al comune in difficoltà di ripristinare i collegamenti internet, fax, telefonia, che sono fondamentali durante la gestione di un evento calamitoso o qualsiasi tipo di evento. Il mezzo è dotato anche di un sistema radio composto da 20 radioportatili, un sistema di tracciatura a bordo del mezzo che permette di geolocalizzare tutte le radio e quindi gli operatori che sono impegnati nelle fasi di ricerca, soccorso oppure di operazioni sul territorio in modo che tutte le persone siano geolocalizzate e possano vedere in qualsiasi momento la loro posizione.